Per l'appunto, il fatto è che quando si parla di democrazia bisogna sapere di cosa si parla, altrimenti è veramente sconvolgente. Allora, una cosa, lei prima ha detto che la parola la dà lei e che non ci parliamo addosso, per cui io aspetterò sempre il mio turno. Certo, certo, grazie, grazie. Ci sono due elementi fondamentali che sono proprio da prima o seconda lezione di un corso di scienza della politica. Primo, la democrazia non è dittatura della maggioranza. Fare il discorso all'85% è così, l'altro 15% sta muto, non è democrazia. In democrazia la minoranza va sempre salvaguardata e tutelata, è garantita. Questa è democrazia, perché in democrazia la Repubblica non è dello Stato, ma è del popolo sovrano. Lo Stato è l'insieme delle istituzioni che il popolo si dà per governare la Repubblica che è di tutti, anche della minoranza. Per cui tu non hai mai il diritto in maggioranza di estromettere dai diritti di godimento e dai diritti umani inalienabili qualcuno per il fatto che la pensa diversamente. Primo punto. Secondo punto, cardine. Con questa menzogna colossale dei sani, che non sono più sani, ma sono pazienti asintomatici, tu hai declassato l'essere umano da titolare di diritti inalienabili a paria, che deve continuamente ogni 48 ore dimostrare di essere sano. No signori, questo è un abuso. Io sono sano fino a prova contraria e se tu che hai paura vuoi dimostrarmi che io non sono sano, ti paghi tu i tamponi, perché io sono sano e da cittadino sovrano è responsabile, affermo che sono sano.